Bene, salve a tutti carissimi, bentornati in questo spazio. Allora, quest'oggi proviamo a riflettere un po' sulla moda. La moda e alcuni altri centri di potere e in un certo modo di influenza, ma l'influenza andrebbe anche bene, salvo che non sia il covid, ma quando un'influenza diviene un condizionamento, un qualcosa che cerca di strutturarti e metterti dentro un quadrato, forse appunto non è più un'influenza. Quindi, di cosa sto parlando? Andiamo a vedere questo articolo che è esplicativo e direi prendine uno per capirne cento. Siamo sempre sul mio giornale preferito, Repubblica, globalista, liberista, democratico, smart, giovane, grandissimo giornale. Infatti, guardate qui questo meraviglioso giornale. Immaginina qua, gigante. Come vi dicevo, oggi quasi quasi si concentrano più i rotocalchi, i giornali, nella grande foto da mettere o piccola, ma deve essere adatta, il titolone e il sottotitolo. Poi il contenuto dell'articolo, il più delle volte, è piuttosto scarno, povero, a volte anche, addirittura sgrammaticato. Perché è la società dell'immagine, è la società dell'istante, dell'immediato. Sono stati fatti degli studi su questi aspetti, quindi loro sanno benissimo cosa fanno. Sono le persone che fruiscono degli strumenti, che non sanno come vengono, né come li utilizzano, né anche che risultati provocano. Quindi, l'immagine, il titolone e il sottotitolo. Questi sono gli aspetti più condizionanti, anche perché quando un'immagine, un contenuto, passa velocissimo, ha quell'effetto subliminale, dove la mente non vaglia, non setaccia, non ragiona e quindi domina il contenuto, è molto più influenzabile perché rimane un significato, un senso, ma non riflesso. Quindi, guardate un secondo, utilizziamo questo articolo che è devastante dal mio punto di vista, per quanto sciocco sia, ma anche l'effetto adatto. Abbiamo questa immagine, con questa fanciulla, bellissime unghie, cappelli, cioè veramente passa molto tempo a curare il suo spirito e l'interiorità, solo per fare quelle unghie ci vogliono tre mesi. Non so se la conoscete, è Billie Elish, una cantante che va soprattutto nei giovani, ma ahimè anche sempre più nei meno giovani. Non so se avete notato addirittura la demenza, senile forse l'età, però Vasco Rossi, che si propone con la mascherina, con questo, c'è un simbolo geometrico sulla mascherina, deve essere divenuto un architetto. Ecco, Vasco Rossi non è amato, ascoltato dai giovanissimi, è soprattutto dai 30 in su, più o meno, insomma, inizia ad avere la sua età, è datato, ma non cambia niente. Cioè, abbiamo Vasco Rossi, con la mascherina, con questo simbolo geometrico, poi era apparso in un altro video un po' di tempo fa, io non riesco più ad ascoltarlo, per me è morto dopo gli angeli. Cioè, Kurt Cobain nella lettera d'addio ha scritto è meglio bruciare subito che spegnersi lentamente. L'avessero letta un po' tutti quella lettera, gli appartenenti al mondo della musica, eccetera, che non significa suicidarsi, vabbè, Kurt Cobain si è suicidato quasi. Ormai quasi è un gesto di intelligenza, soprattutto in certi ambienti, come in Giappone, quando vengono colti e compiere cose reati, cose umilianti. C'è il senso di essere, di vergognarsi, cosa che qui non c'è più. La vergogna non esiste più. Ecco, non serve arrivare a suicidarsi, anche se in certi sensi è quasi un gesto molto più elevato di continuare e rimanere a riempire il mondo di schifezze, però ci si può suicidare artisticamente. Cioè, nel senso, togliersi. Perché ad un certo punto hai raggiunto l'apice, non hai più nulla da dire, ti sei svuotato. Vattene! Allora, in una società dove un uomo di 60 anni e passa, fa i video col dito medio dicendo, Eh già, sono qua. E vabbè, ho capito che sei qua. Poi sei un geometra. Hai 60 anni. I contenuti che passi sono questi. E poi, forse Billie Elish a questo punto, diviene addirittura più matura. Però, eccola qui. Unghietta rifatta. Questa mascherina con i brillantini, le cose. Ai Grammy dello scorso febbraio, con una maschera, appunto, scrive sotto il giornale Liberal, Democratico, Smart, Intelligente, Giovane. Firmata Gucci la maschera. Quindi è già garanzia di valore, cioè di spessore. E poi scrivono, ha precorso i tempi. Perché porta la maschera a febbraio. Quindi pre-covid. Quindi è geniale. Perché usare il termine ha precorso i tempi. Di solito si usa per chi vede in avanti, in un senso lungimirante, positivo. Eccolo qua. Allora, l'altro giorno leggevo tutte le offese che hanno dato a Bocelli, persona che trovo eccezionale, cantante meraviglioso, perché ha partecipato ad un incontro, scienza... Scienza, diritto... Che rifletteva sulla situazione covid. Ma sapete che non si può più riflettere. Adesso c'è una super task force, un'altra ancora, mi pare, che potrà chiudere la bocca a tutti. Insomma, stiamo veramente degenerando. Comunque, Bocelli ha partecipato a questo incontro. C'erano Tarro, De Donno, Zangrillo, Sgarbi, va bene. Forse il dramma è che c'era anche Salvini. Apriti cielo. Allora basta. Tutto si è invalidato. Basta che Salvini partecipi a qualcosa. Forse era meglio che rimanesse a casa. Insomma, Bocelli ha espresso alcune sue opinioni, pareri. Il mainstream, i giornali, l'hanno massacrato. Da un'icona pop mondiale è divenuto un pazzo. Un articolo che leggevo scriveva questo non è lo stesso Bocelli. Perché all'inizio aveva cantato, appunto, in quei momenti drammatici inizio covid, aveva cantato, aveva espresso la sua solidarietà a chi soffriva. Poi si era anche ammalato, lui e tutta la sua famiglia. Però tu non puoi cambiare idea. Cioè all'inizio, ovviamente, nessuno sperava niente. Burioni e compagni e compagnia hanno detto tutto il contrario di tutto. Bocelli, probabilmente, come ho fatto anch'io, all'inizio valutavo le cose, non ho mai criticato, come facevi a criticare qualcuno i primi giorni, avere ben chiara la mente e le idee. Quindi Bocelli sarà stato chiamato per cantare, ha percepito all'inizio questa cosa, affidandosi a quel che veniva detto. Poi qualcosa non gli è tornato e ha fatto riflessioni. Non puoi, non puoi farle. Allora, Bocelli è stato massacrato dicendo come puoi solo mettere in dubbio tutto il sistema governo, covid, eccetera. Poi si è dovuto scusare perché ci è rimasto così male, mi sembra una persona sensibile, una persona che non aveva nessuna intenzione di aggredire, di fare del male a nessuno con quelle affermazioni. Cosa che invece mi pare che tra governo e politicanti magari ci fosse questa sensibilità. ha dovuto scusarsi. Sotto è stato attaccato proprio nei giornali che sono contro gli haters, contro la discriminazione, la violenza, la rabbia. Sotto gli hanno scritto di tutto. E... tra le tante cose scritte c'era come fai a non avere rispetto dei morti. Questa è una cosa gravissima. Eccola qua la cosa gravissima. Allora, dato che il covid è una tragedia, è una cosa gravissima e stiamo insultando le persone solo a ragionare, giriamo con i brillantini, le mascherine da pagliacci, usiamo tutto come mercato. E adesso arriviamo al titolone. Vedete, immagine. E dall'immagine capisci subito perché stanno usando un'icona, non so che musica faccia anche questa, mi sembra un'icona pop, qualcosa del genere, amatissima dei giovani. Quindi è positivo, capite? La mascherina, le perline, è positivo. E sentite il titolo. Perle, bandierine, pizzi, voilà! Olè, voilà! Così le mascherine sono diventate fashion. E il titolo è positivo. Ma qua raggiungiamo il top sotto. Sono il nuovo status symbol, stilistico nonché un sorprendente traino per il mercato della moda. Per questo tutti i brand, dai designer famosi ai marchi più piccoli, si sono buttati nella loro produzione. Ci sono quelle ricamate appositamente per le spose, quelle dotate di catene e borchie, tra il trash fetish e sposarsi ormai in chiesa la stessa roba, potete andare anche con le borchie. Sino a quelle in oro. È bellissimo. Cioè, la gente non ha neanche mille euro per mangiare, muoiono di covid, e c'è gente che gira con l'oro attaccato. Cioè, capite? Poi uno partecipa ad un incontro dove si chiede ma che senso ha tutto ciò? Negazionista. Usano la parola negazionista che rievoca di nuovo, sono veramente persone molto competenti a livello psicologico manipolativo. E ahimè le persone sono dei criceti. Il 90% delle persone sono dei criceti. si fanno sbatocchiare destra e sinistra, frammentare. Intanto loro vanno avanti con tutto un lavoro sotterraneo, elitario, veramente vergognoso. Comunque, negazionisti. Rievochiamo sempre l'olocausto. Che squallidi che sono. Spesso sono costosissime ed estremamente scomode. Beh, vabbè, scomode. Sono tutte scomode ste mascherine, voglio dire, ti soffocano. Ma di certo non si rischia di passare inosservati. Qua raggiungiamo il top, cioè qualcosa di geniale. Serena Tibaldi. Chi ha scritto questo pezzo? Allora, il feedback emotivo è che tutto ciò è positivo. Mascherine, oro, borchie. Un amico mi ha scritto qualche giorno fa che mi segue, ha scritto mai notato che molti cantanti usavano le mascherine prima? Forse ci volevano dare un messaggio. Ma quale messaggio? Scusate, non avete... Perché dovete sempre avere le cospirazioni? Tutte queste mascherine venivano usate prima, soprattutto in video rap. E quel rap sessista, veramente violento, americano, semplicemente perché ricordano, vi ricordate, rievocavano questi elementi bondage, sadomaso, il film Pulp Fiction, quando il pazzo chiude l'uomo di colore nella cantina. Cioè, quelle cose, un po' così, che vanno molto oggi, sono molto carine. C'è un po' di trash, sadomaso, satanismo. È molto bello. Quindi questo evocavano. Poi Fatalità si è incastrata a questa situazione Covid e sta dando la possibilità a tutti i malati di mente di sbizzarrirsi con questa cosa che è un segno di sottomissione. Ma ve l'ho detto in tanti altri video. Le persone non amano respirare. Qua si vede proprio la distinzione. Non amano il cielo, la libertà a respirare, essere liberi e pensare autonomamente. Questo è un simbolo, veramente, di dominio, di controllo, di potere, che distingue i liberi dagli schiavi. Ripeto, non sto dicendo che dove c'è un'ordinanza che, perché qua si rischia di chiudere tutto, un'ordinanza che dice dovete tenere la mascherina all'interno di un locale, non vada portato. Sto dicendo che arrivare al punto di prendere un simbolo e anche uno strumento necessario ad una crisi orrenda, ad una situazione sociale schifosa e trasformarlo in un qualcosa di bello, di moda, fashion, ecco, questo è il sintomo di uno stato psicotico, distopico, ma non sociale basta, ma proprio individuale anche. Dopo, ce l'abbiamo sempre con i potentati. Ma come stanno le persone? Questo continuo a ripetere. Basta, signori, vi leggo l'ultima riga che è il top, raggiungiamo il top di questo bellissimo giornale, questi articoli moderni, smart, democratici, liberali, coagulo di intelligenza e poi vi saluto dato che fa caldissimo. Il pezzo inizia, poi si ferma, io non mi scrivo, non gli pago neanche una lira. Nella moda, alla fine, è tutta una questione di domanda e offerta. Magari. Al di là delle alzate d'ingegno dei creativi e dei diktat imposti dalle passerelle a contare quello che i consumatori chiedono e come il sistema risponde. Qua non è vero, pensateci, non è vero niente. Ciò che conta sono, l'unica frase corretta, i diktat imposti dalle passerelle, i diktat imposti dai film Hollywood, i libri che vengono imposti, ci sono una marea di libri meravigliosi, ve ne avevo proposto anche uno, più di uno. ho fatto un video su Bella Siepe ad esempio e voi entrate il libro Bella Siepe lo ripeto, chi volesse comprarlo è bellissimo. Invece entrate c'è sempre Saviano, c'è Affini a Saviano, ci sono sempre i soliti, vengono stampati un'infinità di libri, però trovate sempre i soliti nelle librerie. Quindi ci sono i diktat dei sistemi di produzione che funzionano a livello intellettuale, visivo e di moda. Sono una potenza enorme. Vi ricorderete quel video di Giovanotti che nella sua inconsapevolezza fanciulla, cioè nella sua dimensione fanciulla ha raccontato qualcosa che non doveva raccontare. Cioè i potentati chiamano artisti, musicisti, addirittura Tony Hawk, il più grande skater del mondo, li chiamano per poi usare brand, per dare un appoggio a certe visioni del mondo, li fanno appartenere, li proteggono in un certo modo, fanno sì che siano sempre sulla cresta dell'onda, basta che tu mi piaci, io ti piaccio, che si corrispondano. Perché l'hanno capito benissimo che in questo tempo dove l'essere umano non ragiona più, vale mille volte un'immagine, un cantante che appoggia un'idea che un articolo approfondito. Quindi sono i diktat che contano e qua chiude con si spiega così in estrema sintesi il boom negli ultimi mesi delle mascherine protettive, elemento fondamentale nell'era del covid. E continuano, era, vi ricordate l'era glaciale? Non è in questa fase covid, è un'era, non torneremo mai più come prima. Allora mi torna in mente Vasco in quel video dove fa il dito medio. Vasco, torna ad essere pensante, fai una bella canzone dove fai un dito medio a tutte queste cose invece di aderire a queste cose. Perché poi raccogli 250.000 persone, hai capito, nei tuoi concerti e mentre il sistema ci schiaccia non riusciamo ad organizzare una manifestazione con 250 persone. Cioè, e qua il top, ultima frase. Novello status symbol stilistico nonché sorprendente traino di un mercato oggi assai quasi ferma a puntini rilevante. Bene, vi lascio con questa riflessione spero che queste parole arrivino soprattutto a chi un po' appoggia e è introdotto a queste cose. Vi piace tutto ciò? Pensateci, pensateci, vi stanno veramente trattando come dei chihuahua. Avete presente quei chihuahua col guinzaglietto e i vestitini terrificanti? Ecco, non va bene. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.